Come si sta comportando questo frangelo? Perché poi lo comuni a Mussolini? Perché? Perché chi lo odia dice è come Mussolini, ma anche chi lo ama dice è come Mussolini. E siccome l'argomento è un meraviglioso inghippo e fa parte dell'esorcismo, allora mi sono divertito quantomeno a smontare le ragioni degli odiatori. Ed è un gioco di sovrapposizione tra ieri e oggi dove esiste eternamente l'identità italiana. Ieri e oggi e quindi ne ho approfittato. Diciamo che mi sono anche molto divertito, soprattutto perché smonto i luoghi comuni e sono tantissimi. Tra l'altro dici una cosa su Salvini che voglio che la senta pure Galli, perché dice laddove Mussolini è la fan fatale hollywoodiana, Salvini è al più elettro Lamborghini. Un'influencer! Non male che Galli è fuori Galli dallo studio, perché non so come finirebbe tra voi due su questa tua affermazione. Beh, rappresenta la contemporaneità, quindi lì è in bianco e nero, un film in bianco e nero con quei meravigliosi guanti alti, qui invece la contemporaneità è l'istantaneo del tweet e soprattutto quella gitar dinatiche.